Ascolti TV di domenica 11 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? In prima serata Raiun ha trasmesso che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 5.348.000 spettatori, 20,54% di share, e 2.711.000, 17,16%, per il tavolo. Su Italia 1 2.471.000, 12,48%, per le Iene con il ritorno alla conduzione di Nadia Toffa che ha rivelato di avere avuto un tumore. Su Canale 5 1.922.000, 8,2%, per il film Chiamatemi Francesco sulla storia del Papa. Su Rai 3 1.298.000, 5,46%, per amore criminale con Veronica Pivetti. Sulla 7 1.147.000, 5,69%, per non è l'arena con Massimo Giletti. Nel pomeriggio su Canale 5 Domenica l'Aicon Barbara D'Urso ottiene 2.511.000, 14,35%, nel segmento politica e attualità, 2.613.000, 15,61%, in storie, 3.018.000, 18,16%, Nella prima parte 2.349.000, 13,45%, nella seconda Su Rai 1 4.930.000, 26,83%, 3.970.000, 23,17%, e 3.545.000, 20,70%, per Domenica in da Sanremo con Cristina Parodi. Su Rai 2 1.186.000, 6,57%, per quelli che aspettano, e 1.199.000, 7,12%, per quelli che il calcio con Luca e Paolo e Mia Cerana. La società Acbitalia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell'abitazione alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di quattro anni, detto panel, è aumentato nel tempo, dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all'avvio delle rilevazioni, Si è passati alle 2.420 famiglie del 1 gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1 agosto 1997, con l'allargamento a 16.100 famiglie, 41.000 individui, da luglio 2017. Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando, in questo modo il meter registra quale programma è visto e anche da chi è visto. Il meter è composto da tre unità, il Monitor Detection Unit, MDU, che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell'apparecchio televisivo, il canale su cui esso è sintonizzato, l'ANZ telecomando, attraverso il quale la famiglia campione seleziona il numero di persone che guardano la televisione. Il meter vero e proprio, unità centrale di memoria, che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e pubblicati la mattina seguente attorno alle ore 10.